Raffaele Fitto con Giorgia Meloni, Franco Di Giuseppe con Giuseppe Meniero. E questa è la prospettiva che Raffaele Fitto annuncerà a Foggia per le prossime elezioni europee quando sarà sancito un patto federativo tra noi con l'Italia e Fratelli d'Italia. Due forze politiche distanti su diversi temi, soprattutto su quello cittadino, dove l'ala di Di Giuseppe, sempre fedele al sindaco Landella, occupa anche postazioni di rilievo in giunta comunale. Al contrario, Fratelli d'Italia, in consiglio comunale rappresentata da Giuseppe Meniero, si dice ancora fermamente all'opposizione e promette, anche nel corso della trasmissione pressa andata in onda ieri, di essere alternativa all'attuale primo cittadino. Il mio leader, Giorgia Meloni, a Roma si è candidata tenendo fuori Forza Italia. Probabilmente a Foggia accadrà la stessa cosa. Il matrimonio tra Fratelli d'Italia e noi con l'Italia, però, a livello locale, sembra non poter funzionare, anche perché, in concomitanza con la visita di Fitto a Foggia, Fratelli d'Italia si ritroverà a Villaggio Artigiani. Per la Kermes sulla testa, un contenitore che guarda le prossime elezioni amministrative. Di certo, né con l'Andella e né con noi con l'Italia.